Catania, maglia nera in Sicilia per i reati. Il triste primato lo rivela l'indice della criminalità 2022, stilato dal sole 24 ore, delle città italiane in base alle denunce di reato recepite nell'anno 2021 e che pone il capoluogo etneo al primo posto in Sicilia, al 26esimo in Italia. Analizzando la classifica, i cui dati sono estratti dalla banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Milano e prima, Torino seconda e addirittura Rimini terza. Un quadro che colpisce perché da una grande città del sud, problematica come Catania, ci si attenderebbero posizioni più vicine alle prime e non nella ventiseiesima, con realtà considerate oasi felici come Trieste, diciannovesima, Parma, quindicesima, Imperia, sesta, che sono più vicine alle prime. Ben cinque province isolane occupano al contrario posizioni oltre la cinquantesima. Davanti a questo quadro bisognerà adesso capire quanti reati non vengono denunciati e se le città che si ritrovano nelle prime posizioni non siano solamente delle realtà in cui ogni reato commesso non venga anche puntualmente denunciato. Lo stesso sole 24 ore specifica, più denunce però non significa per forza meno sicurezza, perché la sicurezza urbana è influenzata anche dalla percezione che ne hanno i cittadini e perché i dati sulle denunce riflettono la propensione a presentarle. Il dato positivo è il calo dei reati nel periodo considerato, in quanto i numeri nel periodo pre-covid erano ben diversi. Nel 2021 le denunce sono state 37.597, con un'incidenza di 3.517 ogni 100.000 abitanti per Catania. Nel 2020 erano state 43.319 e negli anni ancora precedenti superiore ai 42.000. Catania è prima in Sicilia, terza in Italia per le rapine in banca, prima città siciliana per furti di autovetture, quinta a livello nazionale, furti di motociclo, settima in Italia, furti, dodicesimo posto a livello nazionale, seconda per estorsioni dopo Palermo, diciannovesima nazionale.